ciao a tutti bentornati qui su quinta dimensione letture oggi giornata particolarmente festosa suonino le trombe perché vi presento i miei oracoli creati da me in buona parte tutta sotto canalizzazione e mi sono sentita proprio ispirata tantissimo a portare questi messaggi a voi e a chi avrà tra le mani questi mazzi di oracoli che ho creato ma anche per chi li ascolterà e sceglierà qui sul mio canale quando farò i video comunque con questi mazzi anche di portare questi messaggi anche tramite questo mio canale al di là di chi eventualmente vorrà acquistarseli quindi nel ringraziarvi comunque sempre di seguirmi tutti quanti molto affezionati grazie grazie ai nuovi iscritti e a tutti quelli anche che mi manifestano il loro affetto sia pubblico che privato grazie veramente io procedo scusate sono anche emozionata oggi proprio sono così procedo con il primo quindi poi tra l'altro questo ricordo anche a chi non mi conoscesse che è proprio il video di presentazione ufficiale di questi oracoli poi vi metto il link diretto per poterli acquistare e perché nel negozio diciamo nello shop dove li potete acquistare le persone che non conoscono questo canale possano vedere il video di presentazione perché chiaramente le carte vi arrivano comunque per farle semplici visto che sono anche oracoli comunque con un pacchetto di cellofan trasparente eccetera quindi è senza libretto di istruzioni perché non servono quindi chi li vuol vedere li può visionare qui sul mio canale quindi è proprio il diciamo la presentazione ufficiale di questi mazzi quindi partiamo subito con questi oracoli il primo è questo spero che si veda bene adesso aumentiamo le luci allora praticamente questi sono i messaggi da lui che sono degli oracoli che portano dei messaggi per quanto riguarda l'energia maschile quindi questi messaggi li utilizzeremo e li utilizzerò praticamente sempre anche durante le stesure solite che faccio io che conoscete qui sul mio canale e portano i messaggi dal maschile quindi quando si ha voglia di sapere di una persona lontana che non ci sta parlando con cui c'è stata una rottura con cui c'è stato un allontanamento possiamo interrogare questi oracoli con dei messaggi che io ho canalizzato e comunque ho ritenuto adatti idonei come vedete è tutto sui toni insomma del seppia chiaro del beige eccetera poi dopo ve li vi faccio vedere poi abbiamo allora questi sono i messaggi da lui chiaramente abbiamo i messaggi da lei con questa bellissima sciamana qua che praticamente hanno la stessa funzione praticamente qua ci sono i messaggi dall'energia femminile ok che arrivano dall'energia femminile ricordo a tutti che sono comunque impostati per rivolgersi a tutti quindi messaggi da lui li può interrogare una donna e li può interrogare un uomo i messaggi da lei la stessa cosa possono essere interrogati da un uomo ma anche da un'altra donna chiaro che è proprio la politica di questo canale l'ultimo messaggio l'ultimo oracolo sono i messaggi divini questi qua questi sono messaggi sia da altre dimensioni dalla quinta dimensione non a caso il nome di questo canale o comunque reame angelico quindi sono tutte canalizzazioni comunque racchiuse in questi primi tre mazzi perché ho già altri progetti questi sono i primi tre oracolari proprio da messaggi da canalizzazioni e tutto quello che ho sentito di dover mettere qua dentro tutta la mia energia ricorda tutti che come master reiki questi mazzi sono comunque caricati perché chi conosce un po come funziona il reiki sa benissimo dell'energia a distanza come funziona che cosa si può fare con le mani con i simboli insomma mi rivolgo a chi conosce questo tipo di lavoro energetico che insomma esiste da migliaia d'anni quindi se poi eventualmente qualcuno li vuole me lo dica magari dopo scrivetemi perché io a distanza posso anche comunque sia rimettere tutto quello che già c'è qui dentro e che sono impostati comunque sempre per il più alto bene delle persone che interrogeranno questi questi oracoli questi mazzi pervasi e permeati da sola luce e quindi mi raccomando chi eventualmente volesse proprio una tra virgolette consacrazione a distanza poi di questi mazzi mi lo dica in modo totalmente gratuito ovviamente provvederò tramite l'energia reiki a distanza e con i simboli adatti a queste cose di caricare energeticamente ancora di più anche se già l'intenzione c'è già caricata in ogni carta però insomma se avete piacere la risigillo per voi con voi insomma per chi insieme anche a chi utilizzerà il mazzo quindi sul vostro nome eccetera in modo ricordo totalmente gratuito andiamo allora io vi presento prima come sono partita vi presento i messaggi da lui allora i messaggi da lui li giriamo insieme il primo è so che devo cambiare sembro indifferente ma è una maschera ora non posso mi sento intrappolato guardate come come sono fatti ecco riguardo spesso le tue foto spero si vedano ragazzi qui c'è lui no che guarda l'universo che guarda il cielo e quindi va su no come la nuvoletta dei dei fumetti no e ci fa vedere il suo pensiero basta tenermi il muso parlami scusa non doveva finire così ti penso sempre vedete anche il camion ho voluto spostarli no li ho messi un po' centrati un po' a destra un po' su un po' giù ho cambiato colore eccetera facciamo così guarda che facciamo meglio ho paura di un tuo rifiuto lo so che ho sbagliato sei la mia persona ne sto pagando il prezzo troppa gente si è messa in mezzo a noi dammi ancora un po' di tempo non poteva più continuare in quel modo il mio cuore è con te anche se il mio corpo è lontano ti dedico la nostra canzone ti spio di nascosto non riesco a dormire bene spero non sia troppo tardi sono geloso non posso ancora tornare da te dove sei adesso? tornerò da te ti amo perdonami accetta anche i miei difetti ho molti rimpianti adesso anche tu hai sbagliato il pensiero di te mi tormenta non dovevi dirmi quelle cose sei bellissima sei il mio amore più grande sto pensando a come risolvere la situazione stare lontani mi ha fatto capire tante cose lascialo torna con me parlano tra di loro lasciale e torna con me sto per cercarti sei la donna più importante per me riesco a percepire quando mi pensi anche tu mi hai ferito anche tu hai i tuoi difetti la lascerò presto mi manca parlare con te sto cercando informazioni su di te aspettami mi sono pentito delle mie scelte ho capito di amarti quando ti ho perso non litighiamo più ti desidero sei il mio chiodo fisso sono stato uno stupido rileggo i nostri messaggi sul telefono ragazzi poi facciamo la stesa ve le inauguro vi faccio scegliere tre varianti allora i messaggi da lei i messaggi da lei allora i messaggi da lei dicono eccolo qua la lei un po' così un po' dark controllo tutto quello che fai guardate che bel vestito che bella questo è un po' dell'universo sempre un po' così controllo tutto quello che fai sto meglio senza di te ti perdono lei non è meglio di me sai dove trovarmi non meritavo quello che mi hai fatto ho ripreso in mano la mia vita non troverai un'altra come me me l'hai fatta grossa ormai ho smesso di soffrire per te ti sei comportato malissimo nonostante quello che mi hai fatto ti voglio ancora lo so che a volte non sono riuscita a capirti guardo ancora le nostre foto ti spio hai sbagliato tutto la scelta giusta ero io soffro tantissimo perché mi hai tradita mi viene da piangere è finita non possiamo rimanere amici non posso vivere senza di te non meritavo di essere trattata così ti amo ancora hai fatto un grosso errore mi hai riempito di bugie sei l'uomo della mia vita era finita la passione adesso basta rileggo i tuoi messaggi sparisci dalla mia vista lasciala e torna da me ti dovresti vergognare quello che c'è stato tra noi era unico non ti perdonerò mai se non cambi non ci sarò più per te sono ancora arrabbiata mi dispiace ma scelgo me stessa ti ho dato tutta me stessa non voglio vederti mai più torna da me è meglio così per tutti e due e devi decidere sono scorrevolissime è di una fattura assolutamente molto scorrevole guardate com'è proprio scivolano proprio benissimo è chiaro che dove c'è scritto sei stato sei stata comunque sia al di là di quello come facciamo negli interattivi ragazzi e ragazze è chiaro che no per esempio se una donna chiede per un'altra donna e qua c'è scritto sei stato non so l'unico uomo della mia vita è praticamente chiaro che lì è per la donna quindi sei stata l'unica donna della mia vita questo vale proprio perché comunque l'energia è sempre no non è che guarda proprio il gender però in questo caso fate voi la reversibilità a seconda di chi guardate è come sugli interattivi la stessa cosa procediamo adesso con questo qua che è più articolato non serve comunque di istruzioni ma è diverso perché porta un messaggio iniziale adesso vi faccio vedere poi porta dei numeri dei numeri che possono essere coincidenze sincronicità diciamo possono significarvi qualcosa a livello di amore cioè una data ma non solo anche proprio della vostra vita magari ci trovate il giorno della data di nascita ci trovate i giorni delle persone a cui pensate ci trovate delle cose allora qui parliamo di altre dimensioni qui parliamo di riemi angelici di persone nostre che abbiamo perso di persone quindi defunte possiamo parlare anche di quinta dimensione e sopra nel senso esseri proprio di luce no dal cosmo ok quindi da altri pianeti addirittura no e questi qua portano quindi il messaggio quindi che c'è per te dei numeri e sotto anche il consiglio quindi andiamo subito a vedere anche questo qui che si chiama messaggi divini oracolo partiamo subito gli esseri di luce stanno cercando di attirare la tua attenzione su una questione che è legata alla tua missione nella vita presta ascolto e segui le indicazioni divine i numeri sono 003 o 300 quando vedete questi numeri potete sempre scomporli nel senso può essere lo 00 può essere un 3 può essere un 33 va bene quindi ho anche un 300 proprio cambiamenti nella vita materiale ecco qua 665 655 quindi ricordatevi 66 56 55 eccetera cambio di casa o automobile quindi qui ci sono proprio delle cose molto precise sono associate hanno un senso non sono fatti a caso la magia divina ti sta prendendo nuove opportunità 7 e 77 oppure 7 e 7 e 7 eccetera eccetera otterrai un risultato insperato questi possono essere usati proprio come indicazioni prima di una decisione oppure tutte le mattine come carta del giorno eccetera mentre dormi ricevi informazioni importanti anche se non ricordi nulla addormentati chiamandoci 0 1 0 1 11 sta per arrivarti del denaro 8 8 8 buon auspicio quindi sono proprio fatte per questo motivo per portare il messaggio le questioni lavorative ed economiche miglioreranno 7 2 2 7 7 2 otterrai quello che hai chiesto fai esercizio fisico 19 19 o anche qui in questo caso tipo 9 1 9 più o meno esce all'aperto e respira queste sono proprio tutte indicazioni messaggi ero io ero io quel soffio di vento che hai sentito 11 22 chiedi aiuto agli angeli ecco fai ogni giorno un piccolo passo per quello che vorresti 8 4 4 8 5 5 eccetera ripeto 44 55 continua a lavorarci fatte aiutare e chiedi guarigione per questa situazione 20 02 2002 o 00 il 2 intuizioni in arrivo questa è la carta della fortuna ho inserito questa carta perché perché per qualsiasi tua diciamo domanda no qualsiasi cosa stai chiedendo se estrai questa questa è la carta bonus cioè è la carta più fortunata del mazzo è quella che ti dà assolutamente un risponso positivo al 100% qualsiasi sia la domanda va bene realizzazione successo cioè questo è proprio il 100% con 7 diciamo stelline proprio 7 perché è un numero comunque molto significativo e porta come vedi lo stesso diciamo sfondo del retrocarta però con un altro colore quindi questa è proprio la carta del mazzo cioè la carta assolutamente più fortunata di tutte in qualsiasi per qualsiasi domanda fai sono con te chiamami tre volte questo è il reame angelico chiaramente 3 4 34 gli angeli maestri ascesi sono con te in questo momento proprio in questo momento gli angeli sono coinvolti nella tua vita 554 544 cambiamenti in arrivo stai ricevendo indicazioni su come procedere attraverso pensieri sensazioni e visioni 10 10 01 01 gli esseri di luce sono al tuo fianco lascia andare dedicati a qualcosa che ti piace rilassati 666 pensieri fuori equilibrio vai dentro di te la chiusura di un ciclo è necessaria e inevitabile chiedi all'universo di sostenerti 0808 io sono luce io sono amore io sono verità io sono numero 7 il maestro asceso saint germain ti invita a recitare spesso questo potente mantra questo è un mantra veramente dei maestri ascesi e in particolar modo del maestro saint germain che è potentissimo ti stai risvegliando e stai tornando al tuo vero sé 1 2 3 4 il passato non ti serve più sì ce la farai 711 771 stai andando bene poi ricordo sempre scomponeteli se c'è qualcosa che vi dice qualche numero che vi parla lì in mezzo sei sulla giusta strada e tutto è nel perfetto ordine divino 500 550 manifesterai abbondanza ti sto comunicando con i numeri appunto cerca il significato 11 11 ti sto mandando segnali quindi poi dopo dipende tutto da quello che voi chiedete potete estrarre anche più di una carta tutto accade per una ragione anche se subito non ti è chiaro 875 vai avanti con coraggio sei un seme stellare 0010 110 chiama la tua famiglia di luce questo è un codice molto potente realizzazione intuizione potere personale agisci ora andrà tutto bene 222 222 chiedici di aiutarti senza il tuo permesso non possiamo intervenire 441 oppure 411 ti do il permesso di aiutarmi vedete tra virgolette quindi questa è la frase che tu dovresti recitare ti do il permesso di aiutarmi se non sai che scelta o decisione prendere raccogliti in te tramite la meditazione 1616 sgombra la mente guardati dentro sta per accadere un miracolo 777 il peggio è passato se stai ascoltando questo messaggio non è un caso 2 224 244 metti in pratica ciò che ti viene detto adesso quindi questa carta qua ti fa prestare l'attenzione a quello che stai ascoltando in quel momento cioè o poco prima o poco dopo che tu estrai questa carta o senti questo messaggio no devi prestare particolare ascolto a quello che andrai a leggere che ti si presenterà chi ti può scrivere chi quella parola quel messaggio quel numero quella cosa in prossimità dell'estrazione di questa carta no così non va bene cambia il tuo modo di agire 600 660 pensieri ossessivi quindi sono avvertimenti la fortuna è dalla tua parte continua così perché stai facendo bene quindi se c'è qualche dubbio 447 477 mantieni i tuoi pensieri focalizzati periodo di transizione lascia andare il passato e tutto quello che non ti serve più 225 vai avanti con coraggio un bel monito insomma di andare avanti dritti la tua ascensione alla quinta dimensione è iniziata 719 aumento di energia e purificazione delle cellule questo è proprio il tipico passaggio dimensionale proprio del pianeta terra che siamo tutti coinvolti e qui nessuno sfugge e quindi adesso questa carta diciamo nel momento in cui uno la estrae ti sta dicendo proprio che anche la tua ascensione quindi potrai avvertire dei cambi vibrazionali delle situazioni che vecchie putride che si vanno a finalmente a incenerire no questi sono cambi energetici purificazioni tutto ciò che accade è una proiezione di ciò che sei e pensi sforzati nel fare bei pensieri 1551 in questo momento la connessione con il regno angelico e le tue guide è molto forte 13 31 44 ti porterò gioia e tranquillità le questioni terreni della terza dimensione sono illusorie ricordati chi sei 0001 rafforzati ed evolvi questa significa per chi non è ancora tanto esperto la terza dimensione è questa cioè dove viviamo noi la 3d tridimensionale quindi tutto molto pesante energia pesante situazioni che si bloccano sempre eccetera eccetera la quinta dimensione mantieni la tua mente aperta 155 chi cerca trova gli esseri di luce e i maestri vi spingono a mantenere la fiducia nell'universo 23 23 o 23 32 potete usarli anche come diciamo come l'orologio magari sono le 23 23 le 23 32 quindi reversibile eccetera lavora su di te con fiducia ti sto mandando intuizioni 444 connessione con i riami superiori qui c'è un forte collegamento quando estraete questa qua quando si estrae questa c'è proprio in quel momento quel canale aperto in te si sono risvegliate capacità spirituali e psichiche 17 17 allineamento ai corpi spirituali più alti quindi qui questa carta sicuramente la tirerà fuori chi comunque pratica molto con l'energia eccetera però magari anche per chi si sta risvegliando in quel preciso momento questo è l'avvertimento che stai cambiando un ciclo è terminato 0 0 0 sta ricevendo messaggi dal divino lo stesso pensiero che mi mandi sarà quello che riceverai 16 attenzione alle parole e ai pensieri che esprimi tutto il supporto e l'amore divino sono con te 588 558 imminente e grande cambiamento ovviamente in arrivo via il vecchio avanti il nuovo 55 cambiamenti vantaggiosi in arrivo prosegui la tua missione sulla terra realizza il tuo scopo divino senza indugi o esitazioni 999 allora ripeto sono tutti messaggi che non si tirano fuori a caso la carta è sempre giusta al momento giusto la sincronicità divina del cosmo dell'universo è una cosa che insomma non si sbaglia quindi adesso facciamo così ti faccio una allora facciamo proprio una prova vediamo un po' ti faccio scegliere allora no prima preparo allora facciamo così prima preparo un po' preparo tre tre stese mi preparo tre poi ti faccio scegliere il testimone diciamo l'oggetto che metterò sopra vediamo un po' che messaggi ci sono oggi qua allora facciamo un messaggio da lui qui un messaggio da lui qui un messaggio da lui qua facciamo per chi giustamente visto che questo canale parla a tutti facciamo anche i messaggi da lei se poi non ti interessano vabbè scorri avanti però insomma qui dobbiamo guardare tutti perdiamo un po' i messaggi da lei qui facciamo adesso cosa c'è da dire oggi a chi ascolta perché aspetta un messaggio femminile femminile un messaggio qui un messaggio qui un messaggio qui invece per quanto riguarda l'universo gli angeli i reami angelici esseri di luce parenti defunti eccetera anime che ci vogliono parlare vediamo chi è che vuole parlare qui che messaggio c'è qui cosa c'è da dire qui e che ascolta adesso qui e ora vediamo un po' qua questo è il primo il secondo oggi ne faccio solo uno ragazzi una per carta perché la presentazione poi dopo approfondiamo nei prossimi interattivi e facciamo di più le approfondiamo meglio ci mettiamo vicino anche dei tarocchi delle cose carine e ora scegli stesa numero uno variante numero uno questa piuma viola stesa numero due con la piuma diciamo un bianco un bianco grigio la stesa numero tre eccola qua azzurro ti lascio qualche secondo la prima seconda la terza allora per chi ha scelto sposto solo un pochino senza togliere allora per chi ha scelto questa la prima la prima e mi metto di qua mi sposto un po' perché ha scelto quindi la prima stesa con la piuma viola abbiamo qua allora per chi aspetta il messaggio da lui quindi per chi interessa un messaggio maschile anche tu hai sbagliato ti dice lui sia che tu sei una donna o che sei un uomo anche tu hai sbagliato ci dice lui qua il messaggio da lui è questo poi ragazzi oggi facciamo una prima scrematura poi dopo li approfondiamo nei prossimi interattivi per chi aspetta un messaggio da lei quindi che tu sei un uomo e vuoi sapere un messaggio di lei o se sei una lei vuoi sapere un messaggio da una lei cosa ti dice non posso vivere senza di te eccola qua eh sì non posso vivere senza di te per chi aspetta per chi aspetta insomma il messaggio da un'altra dimensione ok da qualcuno che non è questi diciamo sono di carne ed ossa questi no quindi dalle altre dimensioni cosa c'è qua da sapere adesso per chi ha scelto la 1 le questioni terrene della terza dimensione sono illusorie ricordati chi sei per te c'è 0 0 0 1 rafforzati ed evolvi qua c'è qualcuno troppo focalizzato sui problemi va bene qua c'è qualcuno troppo focalizzato in quello che è appunto la 3d cioè tutti gli ostacoli che stiamo incontrando che incontriamo no qui nel realizzare quello che vogliamo e questa è una carta di dire di alleggerirci qui ci dice questo ricordati chi sei perché siamo tutti comunque esseri divini esseri cosmici e se vogliamo c'è solamente questo piccolo velo di separazione da queste altre entità non sono così lontane ricordiamoci eh che anche noi siamo energia anche noi siamo divini quindi allontaniamoci eh qui dicono rafforzati si devolvi quindi allontaniamoci dalle questioni della terza dimensione perché ci abbassano l'energia tra l'altro ci abbassano l'energia moltissimo e non ci fanno raggiungere il risultato allora chi ha scelto la 2 piuma bianco bianco argento diciamo perché aspetta messaggio da lui perché aspetta un messaggio da lui qui c'è rileggo i nostri messaggi sul telefono lui ti dice invece l'energia femminile la donna il messaggio perché aspetta per chi vuol sapere insomma qualcosa di una donna cosa ti direbbe nonostante quello che mi hai fatto ti voglio ancora lei ti dice altre dimensioni riam angelici insomma esseri di luce cosa ci dicono qua cosa c'è ti stai risvegliando e stai tornando al tuo vero sé 1 2 3 4 il passato non ti serve più ecco quindi questo è ottimo devo dire qui vuol dire che in te che ascolti c'è un risveglio eh anche la tua fase ascensionale come tutti quelli che sono sul pianeta terra è iniziata quindi probabilmente hai notato o dei grossi scombussolamenti di vita e dei frastuoni giganteschi che ti è sembrato di dire magari ma cosa sta succedendo perché questo è anche questo quando si cambia di energia quando si evolve qua non ci si risveglia come dice lì risveglio è così è così quindi è ottimo se ti stai risvegliando perché probabilmente prenderai sempre più le distanze da ciò che è vecchio da ciò che è negativo quindi ottimo ottimo messaggio 1 2 3 4 il passato non ti serve più ti dice appunto quindi via il passato basta per il gruppo 2 vediamo ancora in ultimo chi ha scelto questa piuma qui sono morbidissime che non vi dico cioè una cosa bellissime allora chi aspetta un messaggio da lui da lui chi aspetta un messaggio da un'energia maschile ci dice qua tornerò da te tornerò da te cosa vorrebbe dire lei chi aspetta un messaggio da una lei ok cosa ti direbbe lei cosa ha da dirti lei non meritavo di essere trattata così lei questo ti vorrebbe dire altre dimensioni messaggi consigli per te che ascolti stesa 3 in questo momento la connessione con il regno angelico e le tue guide è molto forte 13 31 44 ti porterò gioia e tranquillità bellissimo bellissimo qui avete vicino ciò che è cielo tra virgolette comunque è un velo è qui un'altra dimensione è qui a fianco al nostro fianco non è così in alto cioè sì nel senso alta ma più che altro è alta l'energia perché non è non è così lontano in realtà quindi sei molto connesso connessa tu che ascolti con le tue guide i tuoi portettori i tuoi angeli e potrebbe essere anche comunque una persona che ti ha portato qui adesso a sentire questo messaggio che potrebbe essere anche un tuo un tuo defunto recente magari una persona che hai molto amato e che ti sta dando ti ha portato qui a sentire questo messaggio ti porterò gioia e tranquillità questo per te c'è che devi sapere adesso ragazzi ragazze comunque fatemi sapere se vi piacciono se vi piacciono questi oracoli chi li vuole acquistare li trova comunque il link sotto nell'info box leggete tutto perché metterò tutto quanto tutto quanto insomma oppure state tranquilli perché tanto li userò anche qui non c'è bisogno assolutamente chi non è pratico di carte comunque non ha piacere di maneggiare queste cose non c'è bisogno insomma io dico per chi piace per chi piace può comunque sempre acquistarli e tra l'altro vi ripeto ho anche delle intenzioni diciamo ho già in testa altre idee che sono un po' un vulcanoide un po' così ecco e poi tra l'altro sono tutte ispirazioni nel senso che io sembra che decido io ma in realtà non decido io quello che devo fare viene sempre comunque molto spesso suggerito quindi che dirvi spero vi siano piaciuti fatemi sapere un po' cosa ne pensate e poi anche che stese possiamo farci io le accompagnerò le classiche mie stese con i tarocchi gli oracoli eccetera e aggiungerò poi anche dei messaggini che comunque vanno sempre approfonditi approfondiremo in altra sede perché sennò qui viene un video di non so quanto approfondiremo più in qua su altri miei interattivi spero vi siano piaciuti fatemi sapere se avete delle domande riguardo questi questi mazzi a me trovate sempre qui sul mio canale mi trovate sempre chi vuole dei consulti privati o cosa comunque c'è la mia mail in sovraimpressione per parlare con me guardatevi anche altri video sul mio canale vi aspetto presto con questi oracoli ad arricchire tutto quello che già era diciamo il mio modo di fare e di parlare con voi di leggere per voi e quindi poi approfondiremo molto meglio i messaggi di tutto quanto anzi veramente faremo proprio a volte solo questi con approfondimenti a fianco oppure anche viceversa facciamo prima la stesa classica e ci aggiungiamo poi alla fine invece il messaggio insomma dipende un po' non faccio troppe previsioni sinceramente guardo molto l'energia di quel momento in cui sono qui io percepisco tanto in quello cioè quindi non posso dire fra 15 giorni faccio questo quello molto difficile con me cioè qui è tutto quello che sento in quel momento che magari prendo una direzione verso di qua poi facendo le carte mi spostano di là quindi ecco faremo così faremo tutto molto vero sempre vero qui in questo canale sempre molto diretto molto sincero e soprattutto non camuffato e non aggiustato per forza perché deve essere tutto bello no chi mi conosce ormai lo sa come lavoro se dovesse venire fuori ragazzi qualcosa qualche messaggio così lo si insomma lo dico ma comunque sempre con le dovute maniere no però avete sempre la verità da questo canale sempre sempre la verità ragazzi in queste stupende piume morbidissime vi saluto fatemi sapere nei commenti se vi piacciono cosa potremmo chiedere queste cose qui guardate nell'info box scendete sotto che trovate tutti i riferimenti ragazzi grazie mille vi mando un grande abbraccio vi voglio tanto bene grazie di seguirmi vi aspetto quindi nei prossimi interattivi ciao grazie